ciao ciao a tutti bentornati sul mio sbrillucicoso canale ecco che come vi ho anticipato nel video precedente mi sto riattivando un po qui sul canale quindi prima di procedere con le recenti novità di perline film in co vi voglio far vedere la valigia che è stata del mese di febbraio che ancora non ho avuto appunto occasione di mostrarvi ce ne sono rimasti pochissimi pezzi quindi ne approfitto per lasciare traccia anche della valigia del mese di febbraio di perline film in co la valigia speciale san valentino per venezia ed è veramente una valigia strepitosa carica come al solito di perline meravigliose in tutti i colori in tanti meravigliosi colori sono ben 28 come sempre ora apriamo e scopriamo di che perlina si tratta ed eccola la panoramica della valigia di febbraio guardate sono le drop duo guardate quanti meravigliosi colori come sempre analisa fa alle sfumature dalla più chiara alle più scure ma ora le vediamo nel dettaglio come sempre abbiamo la nostra valigia ormai che è diventata questo contenitore pratico che ci consente di conservare le nostre perline in modo ottimale sempre a nostra disposizione già suddivise quindi veramente una cosa meravigliosa che analisa ci dona il contenitore e in più anche questo mese con la valigia riceverete uno schema pdf in questo caso di silvia bernieri un meraviglioso paio di orecchini che magari se riesco vi lascio o la foto adesso ecco avete visto i meravigliosi orecchini di silvia agli orecchini regina di cuori che sono realizzate appunto per la valigia di febbraio che arriverà infatti insieme alla valigia lo schema pdf ma ora vediamo il contenuto della valigia come avete visto appunto sono 28 colori di drop duo ogni colorazione sono 40 pezzi ora le vediamo velocemente nel dettaglio partendo ovviamente come sempre dalla più chiara in questo caso ecco qua sotto tra l'altro vedete le numerazioni perché vi arriverà insieme anche un foglio dove sono descritti tutti quanti colori numero riferimento colore così nel caso voi vogliate di nuovo acquistare quel colore sapete esattamente di che colore si tratta allora partiamo appunto dal primo che è questo crystal matt che fa proprio un effetto ghiaccio meraviglioso eccolo qua poi abbiamo il crystal ab abbiamo questo colore che adoro guardate che meraviglia questo senato emaculato meraviglioso abbiamo poi quest'altro guardate che spettacolo il primo blister l'abbiamo visto passiamo al secondo procedono anche qua come vedete le numerazioni quindi andiamo per ordine guardate che bello questo colore abbiamo poi un classico questo rosa stupendo che adoro in tutte le perline procediamo con questo rosa dai riflessi dorati anche lui bellissimo che dire di questo bellissimo con questi riflessi cangianti che virano anche su loro rosa bellissimo terzo blister anche qua andiamo per ordine di numero 9 eccolo qua dovrebbe essere lo slip rip bellissimo sempre il lava red quest'altro colore stupendo sul bronzo bronzo ramato adesso non ricordo anche perché io non ho il dettaglio analisa si è dimenticata di darmelo quindi comunque troverete il dettaglio anche nella nell'inserzione che vi lascerò linkata qui sotto poi abbiamo questo questo bel celeste il baby blu lasser 4 blister 4 blister andiamo sempre per ordine numero 13 bellissimo questo verde il ti lasser sono un chalke il lasser una cosa del genere colore che amo questo di una tonalità leggermente più scura abbiamo poi lui che dire meraviglia guardate quanto sono belle anche tutte le sfumature in fila dei colori anche lui bellissimo che scegliamo col prossimo list arriva un blister carico di meraviglie ecco qua guardate che spettacolo questo dovrebbe essere l'ansia in gold quello multi multi color abbiamo poi queste qua bellissime che loro che meraviglia guardate che spettacolo questo colore un classico il copper prossimo blister diamo sempre in fila ok infatti procediamo con la tonalità di colore con quest'altro che adoro vi ripeto ma sono tutti colori bellissimi quindi veramente un assortimento colore anche in questo caso di drop duo che ci darà la possibilità di realizzare tante bellissime creazioni come dico sempre io mai più senza perché quando ci serve un colore andiamo a vedere nelle nostre belle valigie che nel tempo analisa ha messo a disposizione di tutte noi per poter avere un po tutti i colori delle perline a disposizione guardate che bello anche questo stupendo questo oro oro particolare lucido stupendo poi abbiamo l'oro classico il pale gold ecco qua quest'altro di cui mi sfugge il nome ma un oro più carico procediamo quindi con l'ultimo blister come vedete sono sempre 3 3 6 1 7 ogni blister appunto a 4 scompatti sono 28 colorazioni ovviamente anche qua procediamo per ordine e troviamo subito questo bello argento guardate che meraviglia anche lui le matite e per finire abbiamo il jet matt guardate anche lui che bello bene queste sono le 28 colorazioni che ci ho tenuto farvi comunque vedere la valigia appunto del mese di febbraio così chi non ha facebook e non ha potuto vedere le nostre dirette ha la possibilità comunque di recuperare insieme a me ciò che non vi ho mostrato nelle settimane precedenti sono rimaste pochissime valigie quindi se vi interessa vi raccomando di velocizzare l'acquisto proprio perché essendo uscita già da qualche settimana sono proprio rimasti gli ultimi pezzi come vi ho detto vi arriverà il pdf di silvia bernieri gli orecchini regina di cuore che vi ho mostrato all'inizio io quindi vi ringrazio per la visione di questo video per qualsiasi informazione mi raccomando non esitate a scrivermi qui sotto anche semplicemente per un saluto io vi ringrazio quindi per la visione ci vediamo alla prossima ciao